Il mondo è pieno di forze invisibili, ma la gente ha smesso di crederci. Senti, Pietro, è vero quello che si dice di te? Cosa si dice di me? Beh, che sei un mago. Che cosa fai, deficiente? È una bici! Te la riporto! È piegato in un momento di tensione. È impossibile, però. I nostri esperimenti servono a fare capire agli altri che c'è qualcos'altro, al di là di quello che vedono, che è molto potente. Babbo, cosa è successo? Mi sa che ha ucciso un uomo. Mi sa che ha ucciso un uomo.